La dimensione dei lapiglie adesso è centimetrica e sta anche piovendo quindi la vestibilità è particolarmente scarsa. Grazie per la visione! Per farti capire queste qua sono le alette della mia finestra e questa è la polvere. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!